Ciao a tutti e ciao a tutte e ben ritrovati! Come state? È passato un bel po' di tempo dall'ultima volta che ho caricato un video qui su YouTube, saranno quasi 5 mesi se non di più e come ben sapete ormai chi mi segue dall'inizio è quasi una prassi che io mi prenda ogni tanto qualche mese di riflessione per poter preparare anche i nuovi prodotti in arrivo, vi preannuncio sullo shop online nei prossimi mesi. Come vedete sfoggio anche un nuovo taglio di capelli, spero vi piaccia, fatemelo sapere nei commenti se mi preferivate con i capelli lunghi oppure così, anche un nuovo colore un po' più caldo che secondo me irrigidisce a meno i tratti del viso. Sempre su Instagram, più delicious de la estrosalia, ve ne ho parlato spesso, chi mi segue lì già sa anche il mix che ho utilizzato e come ho fatto, come è stato possibile arrivare ad un colore più chiaro rispetto a quello che erano le mie lunghezze molto molto scure. Oggi voglio parlare in particolar modo di un progetto che mi ha permesso poi di ottenere, di proporvi il nuovo prodotto che sarà disponibile sullo shop online tra un paio di settimane. Oggi vi voglio far conoscere una realtà speciale Reborn in Italy che è un progetto di volontariato, di condivisione e di supporto che ho conosciuto, che la vita ha voluto far sì che io conosca quasi per caso, un po' me la sono anche cercata, però sono veramente felicissima di potervi parlare oggi di questa realtà. È una realtà che ha come scopo di introdurre nel mondo del lavoro delle donne in difficoltà, delle mamme extracomunitarie che sono state strappate alla violenza della strada, del mare o della guerra. Donne che hanno dimostrato anche il desiderio di ricominciare tutto da capo. Se mi seguite già su Instagram mi avete già sentito parlare di questo progetto, ma so anche che tantissimi di voi non avete Instagram oppure non avete Facebook e mi dispiaceva non potervi far conoscere appunto questo progetto di cui comunque parlerò anche sul blog, quindi ci sarà una pagina dedicata dove potete trovare tutte le cose di cui vi parlerò oggi. Come vi dicevo, Riborn in Italy aiuta delle donne, delle mamme che sono accolte ed ospitate presso la Contrada che è una società cooperativa sociale che accoglie appunto tutte queste donne messe alla prova dalla vita. Come aiuta Riborn in Italy queste donne che vogliono reinserirsi nella società e vogliono potersi prendere in serenità cura dei loro figli, insegnando loro un nuovo mestiere, ossia come cucire. E questo è possibile solo grazie a Dolesea che è la persona che ha ideato questo progetto di volontariato e che ha deciso di regalare il suo tempo e il suo know-how nel campo della sartoria a queste donne. Si tratta di un'iniziativa molto giovane, ha un anno di vita, se non sbaglio lo compie adesso a maggio oppure a giugno e si svolge in co-working presso la sartoria sociale di Chieri due volte a settimana. È un progetto di volontariato che quindi si autofinanzia attraverso la vendita degli articoli che queste donne, che queste mame imparano a cucire e che poi vendono sullo shop online di Riborn che attualmente è ospitato sul sito di Amrita Kids. Amrita Kids è praticamente il brand di moda etica e sostenibile per bambini ideato da Olesea che quindi è la mente creativa che c'è anche dietro al Riborn in Italy. Quindi ovviamente Olesea quando ha deciso di regalare tutta la sua tecnica, tutte le sue competenze è perché aveva un trascorso decennale nel campo della sartoria proponendo appunto con il suo brand Amrita Kids degli articoli per bambini in fibre naturali, biologiche, proponendo quindi una moda ecosostenibile. Quindi il messaggio che io volevo farvi arrivare è che l'unica fonte di guadagno per queste mame è appunto quello che loro riescono a vendere attraverso questo shop online. Ovviamente non hanno la possibilità di avere un magazzino quindi tutti gli ordini vengono cuciti man mano che arrivano quindi si tratta anche di una tempistica non immediata. Io devo dire che quando sono venuta a conoscenza un po' per caso perché avevo interpellato Olesea per chiedere delle informazioni su una particolare tipologia di tessuto, ne sono rimasta affascinata da questo progetto e avendo la possibilità di dare il mio contributo ho voluto farlo subito, anzi questa cosa mi è entusiasmata non poco e il fatto di potervi parlare oggi di questo progetto mi rendo orgogliosa e emozionata e so che tante di voi sosterete questa iniziativa e mi aiuterete a farla conoscere parlandone con le vostre amiche oppure con le vostre mamme e vorrete dare il vostro contributo. Io nell'info box del video vi lascerò anche il link al loro profilo social su Instagram, anche il link sul sito al loro shop online. Tenete presente che tutti gli articoli da loro realizzati sono articoli realizzati in fibre naturali oppure materiali riciclati oppure recuperati a chilometro zero. Si tratta non solo di un articolo di un capo made in Italy fatto a mano ma si tratta di acquistare un capo con una fortissima impronta sociale ecosolidale. Ovviamente dietro a questo progetto non c'è solo Olesea ma a sostenerlo c'è tutto il team che c'è dietro il marchio Amrita Kids, una schiera di professionisti che si sono resi disponibili di dare loro contributo in modo gratuito a questo progetto di volontariato. Io sarò felicissima tra un paio di settimane o forse già settimana prossima, adesso non so bene le tempistiche, di potervi far conoscere il prodotto che è potuto nascere grazie alla collaborazione con appunto questa piccola realtà che è il Reborn in Italy. Sono sicurissima che troverò in voi l'adesione che cerco ma non per quello che è il mio prodotto ma vi invito assolutamente di visitare lo shop di Reborn in Italy e di dare il vostro contributo al reinserimento nella società di queste donne. Sarò più che felice se poi mi farete sapere nei commenti se avete avuto il piacere di contribuire, di dare una mano ma anche solo con il passaparola se volete a far conoscere questa piccola realtà a tante altre persone per poter far nascere magari un movimento sempre più grande in cui donne possono aiutare altre donne. Mi fermo qui, spero che questo video vi abbia dato un'idea di quello che è Reborn in Italy, ovviamente se avete dei dubbi o delle domande potete farmele qui nei commenti oppure potete scrivermi come sempre via email. Vi invito appunto a seguire Oleseia sul suo profilo su Instagram Reborn in Italy dove potrete vivere da vicino questa realtà commovente. Vi saluto, se il video vi è piaciuto lasciate il solito like e noi ci vediamo a breve. Non ve lo prometto quando perché non so bene le tempistiche. A presto, ciao! Grazie a tutti!